Questa raccolta alimentare al poligrafico per la prima volta, due giorni, un'iniziativa nuova che ha avuto comunque grande successo, grande risposta. Sì, ha avuto grande successo, è stata una bellissima esperienza, hanno partecipato tutti, anche più di quello che ci aspettavamo, quindi il senso di solidarietà e di condivisione di questo progetto è stato molto ampio. Siamo stati molto molto contenti della partecipazione di tutti gli operai e abbiamo avuto anche veramente molte adesioni per il volontariato.